E' già visto! Le golden stanche? E' ciao, dai, rifalla! Ti fai un culo? Le golden stanche? Te ti è andata di culo che non ho fatto in tempo a accendere il video? Eh perché? Fatica! Non stanco io, credo! Golden stanche? Tra le volte che non vengo, meglio la faccio! E quindi? Eh, un attimo! Avanti un altro! E' libera! Ma voi state a scegliere anche la marcia? Io non so quella che... Uso quella che mi porta, non so che marcia è! Bisognerebbe tagliare giù un po' di quei rami lì! Questa è una figata! Ma l'ale l'ha detto che ci sarebbe dovuto tagliare! L'ale? Ma adesso dai dai è scavata, però... E dai dai che hai rotto le radici! E' facile! Dici? Ma questa non la radice non c'è più! E' quella lì! Si! Qui c'è la radice, non c'è più! Non c'è più! Ciao! Ehi! E' un cacao cattivo! E' un cacao cattivo! E' un cacao cattivo! Grazie! 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 Grazie!